Buongiorno amici ma soprattutto amiche di My Own Workout, rapidissima incursione di rientro dopo una session, mi vedete sempre un po' cotto dal sole e sconvolto, quindi un attimino nello studiolo per darvi una pillola del coach ed è una linea guida importante e utile se messa in pratica. Allora recentemente mi è arrivata una domanda via mail dove mi veniva chiesto quali distanze gara sono più facili da concatenare in una finestra di tempo brevissima l'una dall'altra, quindi da una gara all'altra. Allora ragazzi e soprattutto amiche, molto semplicemente più il chilometraggio di gara si estende più tempo di recupero avete bisogno, ok? Poi c'è sempre, e ritorniamo su una vecchia pillola, ma vecchie pillole comunque in generale, dipende anche dal modo in cui gare ravvicinate vengono corse, perché come ho detto, soprattutto in un sistema di allenamento come il mio, ci sono alcune gare, soprattutto quelle che adesso ritornano, infrasettimanali, che possono essere usate al posto di sedute di qualità. Ma se una gara di avvicinamento viene tirata, anche se la strategia era quella di correrla come un jog svelto o un allenamento collinare, eccetera, eccetera, certo è che se 5 giorni o 6 giorni dopo c'è la gara target programmata non è possibile essere freschi, aperta parentesi, non è possibile essere freschi con quale tipologia di distanze. Allora, siete in una zona critica se ad esempio fate domenica 10 chilometri tirata, la domenica dopo voler fare una mezza forte, i chilometraggi dai 10 chilometri in su richiedono tempo per essere smaltiti bene al 100% in modo completo, ok? Ancormeno fare al contrario una mezza la domenica e poi la domenica successiva una 10 chilometri tirata. Non c'è tempo tecnico, materiale per recuperare, quindi fate bene una, non potete per forza di cose fare bene l'altra. Parlando in termini generali, un'altra cosa, poi c'è qualcuno che mi potrà dire, eh ma ci sono eccezioni, sì, allora, ragazzi, le eccezioni dovete sempre poi andare a capire quali sono queste eccezioni, cioè gente che magari adesso c'è il trend di concatenare maratone ogni domenica, tre domeniche di mezze. Allora, queste persone normalmente sono atleti, amatori, evoluti, semi pro, ok? Molte persone di questo genere, che fanno parte di questa categoria, spesso hanno dei lavori part time o con molto tempo a disposizione, molti pomeriggi liberi o molte mattine libere, ok? Quindi la loro vita è strutturata sull'allenamento, ma voi in generale che fate dei lavori a full time, a tempo pieno, dovete tenere in considerazione la vita, il quotidiano, gli altri impegni, ok? Che sono un carico per la testa, per l'organismo, indi per cui recuperate bene. Se gareggiate su distanze dai 10, se il vostro range è dai 10 chilometri in su, ok? È molto molto importante dare all'organismo e soprattutto alle fibre muscolari e soprattutto se il vostro campo di gioco, terreno di gara, è la strada, quindi il fondo più pesante per le articolazioni e per le fibre muscolari, i tendini che ci sia, date tempo all'organismo di recuperare. Per contro, quali distanze invece possono essere concatenate bene? E possono essere corse anche bene e forte di settimana in settimana, le distanze dal mezzofondo, quindi proprio per stare larghi dai 1.500 ai 5 chilometri. Si possono gareggiare bene tante 5 chilometri consecutive, idealmente ogni 3 settimane rimetterci la gara da 10 chilometri, una 5 chilometri anche tirata con 3 giorni di jog rigenerante o attività aerobica blanda vengono quasi sempre completamente metabolizzate e non c'è uno strascico nei giorni seguenti che non vi consente di eseguire bene gli allenamenti, ma si possono accumulare tante gare in sequenza dai 5 chilometri in giù, quindi si può fare, si può fare assolutamente. Ad esempio, non è assolutamente nocivo correre, ipotesi, una gara su pista il venerdì, il venerdì sera, spesso i meeting sono di sera o di pomeriggio, ipotesi, di poi prendere due giorni di rigenerazione, vi sto facendo degli esempi, con del jog blando tra i 30 e i 40 minuti sabato e domenica in sequenza, lunedì metterci degli allunghi facili tipo 6-8x200 e poi, ipotesi, il martedì gara sui 5 chilometri e il ciclo si ripete. Poi un altro principio che rubo a un altro coach, poi vi dirò chi, se volete saperlo, è questo. Il fatto che voi possiate fare una gara, anche importante di chilometraggio consistente, il fatto che voi possiate non significa che dovreste, perché spesso si è sempre molto lanciati dal lato emozionale, ok? Sto bene, mi sento bene, good vibe, good vibration, ma la raziocinio, la parte razionale deve entrare. Spesso la parte razionale da soli non viene ascoltata o non si innesca, non c'è quel click, allora ecco che lì subentra il coach, ok? Subentra il coach a dirvi, dovrebbe subentrare, adesso io parlo in generale, dovrebbe subentrare il coach a dire delle cose. Una cosa importante, ragazzi, in uno status di pratica da amatori, più o meno evoluti, non cercate di copiare l'atleta che vedete sul portale locale che ha fatto questo, l'altro atleta che ha corso quattro maratone in un mese. Non imitate questi soggetti perché vi fate male. Ve l'ho spiegato spesso a quale categoria appartengono questi individui. Lo ricordiamo, ve lo ripeto ancora in chiusura di post, è tutta gente che ha molto tempo a disposizione, sono dei semi pro, quindi in parte guadagnano dalle gare che fanno, voi no, hanno molte più ore a disposizione per accumulare chilometri, voi no, ok? Quindi avere sempre una visione realista delle cose e soprattutto ricordatevi che per molti di voi devono praticare per stare bene, per ragioni salutistiche, con impegno, con struttura, con programmi ben calibrati tra qualità e volume, però voi lo fate per ragioni di salute, perché se vi ritrovate a fare delle cavolate per simulare Tizio, Caio e Semprogno, guardate la cosa a tre anni da adesso. Se vi ritrovate zoppi con i tendini partiti, senza cartilagini e altre magagne da sovraccarico, sovrautilizzo, overuse, overload, eccetera, eccetera, chi è causa del suo mal poi pianga se stesso, quindi allenamenti sempre intelligenti, la linea guida per gareggiare tanto e a lungo ve l'ho spiegata, più le gare sono corte, più possono essere incastrate al posto di allenamenti e meno tempo di rigenerazione richiedono. Se andate già sul fondo, quindi concatenamenti di 10 chilometri, 21 chilometri, in mezzo, ultra, di nuovo 10 chilometri, eccetera, eccetera, con altri impegni nel quotidiano vi troverete molto molto in difficoltà e sempre sul filo del rasoio, borderline che la volta buona ci siete e poi dovete stare fermi dei mesi. Se avete domande scrivetemi nei commenti qua sotto, condividete con gli amici, like al canale, poi se volete contattarmi avete tutti i link in descrizione. Da My Own Workout per oggi è tutto, allenamenti intelligenti e come sempre a bombazza!